Hey what's up ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono sempre io Amber di Dragonsteak TV Anche oggi ragazzi siamo su Clash of Clans per il quarto sneak peek appena annunciato dalla Supercell Questa volta si parla di guerra, dello spareggio Allora ragazzi ora se la guerra finisce in spareggio Il clan vincente sarà quello con la percentuale di distruzione totale più alta Quindi ora sarà importante cercare di raggiungere una percentuale di distruzione più alta possibile negli attacchi Quindi ragazzi dovremo contare ogni singola possibilità di far fuori gli edifici esterni per fare più percentuale Questo verrà molto anche soprattutto nelle guerre piccole Quindi ragazzi dal prossimo aggiornamento ci sarà questa cosa qui Altra novità ci sarà la possibilità di comprare lo scudo di 7 giorni per la lega Titano 2 e Titano 3 Normalmente si poteva prendere lo scudo solamente per 1 o 2 giorni per queste leghe qui Ma dal prossimo update non sarà più così Anche qui ragazzi finisce questo quarto sneak peek e ci vediamo come sempre al prossimo sneak peek Ciao ragazzi